E anche questo è un bel pino gigante, per ossigenare l'ambiente. Qua è in cima alla collina, diciamo. Come parco è tenuto bene. Sì. Quale? Ah sì, l'ho ripreso prima. Io e te, se ci mettiamo insieme non riusciamo ad abbracciarli, ci vuole un'altra persona. Ah no, questi due qua sono enormi. Avranno la stessa età di quel troncolo che abbiamo visto tagliato. Vediamo questa opera d'arte qua sul muro. C'è una specie... Ma deve essere preso da un cartone animato. Beh, questa è opera d'arte. Vabbè, comunque è un... Sì, deve essere un personaggio di qualche... Magari è anche di fantasia, che non so. Ah, può essere anche di fantasia, sì. Mi ha detto che siano tutti... Mi ha detto che siano tutti... Non so cosa è quella casa lì. Probabilmente questa... È una villa. Era collegato al giardino? Penso di sì. Ma lei deve essere uno degli uffici comunali, penso. Adesso è un ufficio comunale. Ma sì. Cosa aveva? Era tutto collegato. I proprietari della villa avevano anche questo terreno qua. Che andava tutto in discesa. Ma tutto erano loro. Poi saranno morti. Ah, beh, sì. Ah, può essere. Comunale la può diventare il parco. Ah, può essere. Il parco qua era proprietà di questi qua. Di sicuro. Era una gente nobile, ricca di quei tempi. Cedevano la casa, la villa. Ah, può essere, può essere, sì. No, no. Di solito adesso esiste. E poi adesso l'hanno separato. E poi è diventato il comunale o niente. Penso che l'hanno separato, perché... È diventato il parco pubblico. Per quello che c'è il cancello. Ma l'avranno messo dopo, eh. Sì, certo. Non ci spugnano mai cent'anni. Sì, ma caspita, avere un giardino così? Io ci mettevo anche una piscina. Guarda. Per quello che dico io. Eh? Queste palme qua. Eh? Da noi non esistono. Sono state piantate da chi? Da un privato. Ah, queste qua, sì. Chi era proprio piantato le palme. Sì, ma guarda. Queste sono da mare queste qua. Paggi. Queste sono piante esotiche. Da noi non esistono. Le devi piantare. Perciò qui c'era il proprietario. Sì. Comunque non si mette a piantare le piante delle banane. Messe piante... Eh, è logico. Poi viene della soglia... Adesso vuole sentire... Ah beh, quello sicuramente. Ehi, quello sicuro. Grazie a tutti.